Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati nel mio nuovo video. Oggi, come leggete dal titolo, vi porto lo spacchettamento Reflame dei nuovi prodotti che ho acquistato appunto da questo brand. Inoltre, alla fine del video, vi mostrerò dei campioncini di prodotti coreani che mi sono stati omaggiati dalla mia cara amica che è andata al Cosmoprof di Bologna e mi ha portato questi campioncini. Ma partiamo dall'ordine di Reflame che ho fatto. Iniziamo dall'SOS Blemish Gel. Questo è un mini gel, aspettate che lo apro, che serve per i brofoli. Per chi ha punti neri e brofoli, c'è questa mini taglia di questo gel che, insomma, può assolutamente servire ad alleviare i problemi di acne, di brofoli, di punti neri e anche allenire la pelle. Non avevo mai preso questo prodotto da Reflame e ho deciso di provarlo perché era in promozione. Vedremo come andrà, vi farò sapere più in là, nei prodotti finiti, come mi sarò trovato. Ma andiamo avanti. E andiamo avanti con questa crema per le mani, la Dream Cream, la Dream Cream, appunto, di Reflame. È una taglia piccola, da 30 ml. Ah, non vi ho detto il prezzo di questo qui. Questo qui costa 4 euro, mentre questa crema a mani costa 1,30 euro in promozione. L'ho già presa in passato, mi era piaciuta, adesso hanno fatto un nuovo packaging e ho deciso di riacquistarla perché, pur essendo molto economica e molto buona, perché idrata senza ingrassare le mani, ma idrata il giusto. Soprattutto adesso che andiamo verso il periodo caldo, questa qui non mi rende le mani unte, ma le idrata il giusto, diciamo. Andando avanti c'è questo prodotto, che ve lo mostro subito. Aspettate che ve lo apro. È una spazzola, che non è proprio una spazzola, diciamo una spazzola massaggiante per i capelli di Duology, del marchio Duology, sempre di Oriflame. È questa spazzola. E praticamente vi massaggia i capelli quando voi fate questo movimento sulla cute. io adesso non lo faccio sui miei perché sennò mi scompeglio tutto, ma facendo questo movimento vi massaggia i capelli, rendendo il cuoio capelluto più morbido, dandovi sollievo se utilizzate elastici o prodotti aggressivi lavanti. Insomma, ha lo scopo di andare un po' ad ammorbidire il cuoio capelluto. Questa spazzola costa 6 euro e devo dire che secondo me è veramente un acquisto carino perché è una novità nel campo dell'healthcare, della cura dei capelli, secondo me. Non si è mai vista una cosa del genere. Io almeno questo prodotto non l'ho visto mai in nessun altro brand da cui acquisto. Andando avanti, abbiamo tutto questo è la crema contorno occhi di Hydra Radiance, Hydra Radiance, linea Optimals di Oriflame, ed è una crema contorno occhi da 15 ml. Vi faccio vedere il vasettino perché appunto vi ho fatto vedere nel video precedente che il tubettino che avevo l'ho terminato. Questa è un'altra crema contorno occhi, secondo me è super super valida perché non lo so, ne ho sentito parlare bene e inoltre fa parte di una linea molto molto famosa di Oriflame che è appunto la linea Optimal Hydra Radiance che è una linea adatta a tutti per tutte le età e quindi secondo me potrebbe veramente sorprendermi questo prodotto. Vedremo. 15 ml per 6 euro sempre in promozione. Andiamo avanti con il penultimo prodotto che è questa crema a mani al pompelmo della linea Love Nature di Oriflame. L'ho presa al pompelmo perché essendo agrumata è molto adatta al periodo primavera-estate quindi non potevo scegliere che profumazione migliore. Idrata per 24 ore contiene il 97% di ingredienti naturali e contiene pompelmo organico rosa. C'è tutto scritto qua in inglese adesso non si vede perché la mia telecamera non mette mai a fuoco ma comunque questo è vi farò vedere poi vi farò sapere poi come mi ci sono trovato costa comunque se non sbaglio 2,50 euro se non ricordo male ultimo prodotto e poi passiamo ai campioncini coreani questo gel doccia simple joy all'ananas sempre della legna love nature l'ho preso perché è proprio adatto al periodo anche questo primavera estate fruttato insomma dall'azione idratante sulla pelle perché i veri gel doccia devono dare un po' di idratazione alla pelle se no lavano e basta solo seccando la pelle fanno solo danni e poi questa linea io non l'avevo mai provata quindi mi sono sentito di provarla iniziando proprio con insomma il gel doccia all'ananas perché sempre della stessa linea cioè simple joy c'è anche quello al pompelmo e altre profumazioni quindi la linea love nature la conosco perché ho preso tanti prodotti della linea love nature ma in particolare dei gel doccia è la prima volta che prendo un gel doccia solo un bel po' di anni fa ho preso quello al cetriolo e mi ricordo che mi piacque però della recentemente non li avevo mai presi questi gel doccia questa è la prima volta che lo prendo e spero mi piaccia adesso passiamo ai campioncini allora questo vabbè non sono campioncini è solo pubblicità solo pubblicità poi c'è questa maschera di cui però bisogna inquadrare il QR code per capire come si utilizza e poi una sfilza di campioncini misti allora detergente al water bomb green tea cioè al tè verde questa è una crema per le rughe che sicuramente regalerò questa è una crema notte un altro detergente una crema da notte garden se garden si chiama ah no questo è greco questo prodotto è greco non è coreano è una marca greca greca gli altri gli altri invece che vi ho fatto vedere sono coreani poi c'è un'altra crema anti rughe un'altra crema da notte una crema anti rughe sempre di garden nel marchio greco e poi ci sono per terminare due campioncini di questo se non sbaglio siero questa essenza coreana da utilizzare sempre sul viso come le creme e niente ragazzuoli questo era il video di oggi noi ci vediamo al prossimo video che uscirà tra poco l'ultimo per quanto riguarda oggi e sarà il video vi do già l'anticipazione sui miei youtuber preferiti quindi veramente spero che vi piaccia se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi attivate la campanellina perché ogni mercoledì escono sempre una sfilza di video per intrattenervi e spero in qualche modo farvi divertire farvi passare il tempo in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video sempre qui sul mio canale le pelule di Axel a tra poco con l'ultimo video del mercoledì ciao ciao